cari amici edrete 7 ciao devo nembatti le man troppo forte perché sennò hai che già poi a casa e n'è da bim quindi pian pianot pian pianin da lontan e da dausin ecco am ne proprio luitamente nauta in diretta quindi picche parei a smuire come dice il Piemonteis comunque alle torna ora per le Piemonteis già d'inciupatata che ora calè io torna nella mostra alle proprio ora c'è una cata una scuote ste nati mlievo avert disse trevo quei cosa e un lasso li entano buto una canzone ciao a dopo sono sì scusè io fai una corsa spero che in tal frattempo la canzone sia piaccia però vische io ma parlà tempo ed mostre fumo nati in finta che sia il set e quart e vien set e quart hai calaggi teresa hai munta sui bernard set e mese hai calaggi bernard hai munta sui teresa teresa pia la presa bernard che cosa farà mai a mangiare l'art min cara gente mi hanno dispiace per l'inconveniente prima che sono scappata e stasera alle proprie ora che ho saluto ma voglio ti scappare perché i programmi e tre tessette continuo e noi ci vediamo domani sempre per parlare più moltevi un basino ciao